Ciao a tutti, sono Alex, il mondo. Oggi farò una magia. Ok, iniziamo. Pensate al numero da 1 a 1000. Fatto? Ora moltiplicatelo per 2. Fatto? Ora aggiungete 100. Fatto? Ora dividetelo per 2. Fatto? Ok, ora togliete il numero che avete pensato. Fatto? Ok, il risultato dell'operazione sta in questo mandarino. Ecco qua. Ecco qua, il bigliettino. Ora l'operazione che abbiamo fatto e il risultato è 50. Vero? Allora sono Diamond. Ok, devo andare alla prossima volta con Alex, il biondo.